Buonasera, buonasera a voi. Allora, ogni tanto è normale che succeda, butto un occhio a quello che avviene in territorio ucraino, che deve ovviamente preoccuparci e interessarci, perché siamo direttamente interessati, perché spesso ci dimentichiamo che esiste un'alta possibilità che il conflitto si allarghi ulteriormente. Intanto, se vi ricordate, molti mesi fa, ancora nell'autunno dell'anno scorso, fu preannunciata la controffensiva da parte dell'esercito ucraino, controffensiva chiamata di Primavera. Poi, insomma, adesso io non vorrei sbagliarmi, ma la Primavera dovrebbe iniziare il 22-23 marzo e siamo gli sgoccioli, no? Perché fra due settimane, poco più, inizierà invece l'estate. Probabilmente, non lo so, si sono sbagliati e ci sarà una controffensiva in estate, quindi la chiameranno la controffensiva dell'estate. Qualche scaramuccia per la verità, stanotte della ragione per la quale ho voluto fare questo video, si è vista ed è stata clamorosamente respinta la controffensiva da parte degli ucraini. Risulta poi da fonte assolutamente accreditata, quindi non propaganda dell'una e dell'altra parte, ma insomma racconti di chi è sul campo, diciamo, che cerca di fare il proprio mestiere in maniera neutra e ci dice che è stata praticamente distrutta l'ultima nave da battaglia dell'esercito ucraino. Questo vuol dire che, insomma, per via mare loro potranno fare ormai ben poco e noi sappiamo, guardando la cartina, che insomma il Donbass è gran parte sul mare, tra l'altro la stessa, se noi passiamo da Mariupol arriviamo fino ad Odessa, c'è il mare e poi lì c'è il Cremlino conquistato ormai definitivamente da parte dei russi. Eppure, e questo che voglio anche sottolinearvi, se voi ascoltate i grandi esperti di geopolitica e di conflitti in Italia, ho avuto modo di ascoltarli ancora in questi giorni e anche stamane, ritengono che, insomma, la Russia è in difficoltà e che sicuramente l'Ucraina potrà conquistare nuovamente i suoi territori e solo allora probabilmente si potrà parlare di pace. Francamente, vedete, io vorrei capire come questo anche da un punto di vista militare possa succedere perché o sono in grandi contraddizioni gli ucraini quando dicono che non è vero che la stragrande maggioranza nel Donbass vogliono andare con i russi, sono filorussi, loro dicono appunto che non è vero, che non è assolutamente corrispondente a verità. Allora, se avessero ragione gli ucraini, cosa vuol dire? Che loro fanno questo controattacco e bombardano i loro stessi civili? Bombardano gli ucraini per riprendersi quei territori? Perché altrimenti, francamente, non si capisce come vogliono fare. Perché, devo dire, che i russi anche strategicamente, molto rapidamente hanno ricostruito certi territori, tra i quali la stessa Mariupol, Donetsk, e altre città, sono praticamente ricostruite e è ripresa abbastanza, per quello che può essere abbastanza, la vita delle popolazioni. Quindi già qui si fa un po' fatica a capire esattamente come funziona questa controoffensiva. E non ultimo il fatto che nei tentativi che hanno cercato di fare in queste ultime due ore sono stati clamorosamente respinti. E tutto questo, ancora una volta, ed è questo che deve farci inoridire sulla pelle dei popoli, sia che sia il popolo russo, ma anche il popolo ucraino. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.